Amici di milan.soc, ben ritrovati! Allora, come state? Vi voglio innanzitutto ringraziare, sta andando davvero bene il nuovo canale, quello dedicato a Milan Futuro, cioè alla squadra del Milan Under 23. Chi ancora non si è iscritto, perché per poter partire il progetto, seguire dunque tutta la stagione del nuovo Milan, ricordo che per iscriversi qui sotto, link in descrizione, c'è scritto proprio iscriviti a milanfuturo, che poi è milanfuturo.soc, perché siamo sempre noi della redazione, quindi mi raccomando, mi raccomando fatelo, dobbiamo arrivare ad un numero congruo prima che inizi il campionato, verso la terza settimana, adesso daremo tutte le date precise, comunque per la fine di agosto, d'accordo? Allora, possiamo partire, sì, possiamo partire perché ci sono delle novità. Allora, innanzitutto, la prima novità stamattina, abbiamo parlato del calcio mercato, prima squadra, importante. Beh, abbiamo parlato del calcio mercato e abbiamo detto che il Milan diventa sempre più francese, dunque il progetto prevede l'acquisizione di un paio di giocatori, uno particolarmente noto, ovviamente parliamo di giocatori che già militano all'interno del campionato di Serie A, ma vabbè, stiamo parlando di Rabiot. Ora aspetta lui la decisione, è tutto fatto tra i due club, tra il Milan e la Juventus, vedremo la volontà del calciatore e però bisogna aspettare questo europeo, quindi bisogna aspettare. E l'altro invece è Fofanà, anche per lui bisogna aspettare. C'è una questione però relativamente a Fofanà, beh, il Monaco aveva chiesto un po' di più dei 25 milioni che rappresenterebbero, abbiamo detto, quindi usando il condizionale, l'offerta definitiva. Il Milan sta tirando un po' troppo la corda, sta tirando un po' troppo la corda, perché? Perché il Milan proporrebbe tra i 15 e i 18 milioni. Ora, se ci riuscite, bravi, ma così c'è il rischio che noi rimaniamo con un pugno di mosca in mano e questo non va bene. Avete l'idea, avete maturato l'idea di avere Fofanà? Il calcio in questo momento è questo. Io posso capire i 15 milioni ad un agente, però se il Monaco parte da 35, arrivi a 25 e ora vuoi dare 15, c'è il rischio che alla fine si rimanga veramente con un pugno di mosca in mano. Quindi vediamo di chiudere quest'operazione. Il sacrificato dovrebbe essere Adli. Ora fatemi sapere tra i commenti se preferite Adli o se preferite Fofanà. Per quanto adli, l'abbiamo conosciuto, cuore Milan, e dall'altra parte il ragazzo, perlomeno per quanto mi riguarda, lo si conosce un po' di meno. Allora, va bene, chiudiamo un attimo questa faccenda del calciomercato e apriamo quella relativa allo stadio. Noi come canale siamo davvero molto attenti a tutto ciò che accade relativamente al nuovo stadio del Milan e al futuro impianto che ospiterà la nostra squadra. E' successa una cosa un po' particolare. Qualche giorno fa, per la precisione il 21 giugno, sono state esposte, ricorderete, le linee di principio dello studio effettuato dalla WeBuild, per la ristrutturazione dello stadio di San Siro, in cui la multinazionale si è presentata dicendo noi siamo all'altezza di poter presentare un progetto di ristrutturazione senza interrompere le attività agonistiche dell'una e dell'altra squadra. Allora, a proposito, venite qua, avete visto la maglia di quell'altra squadra? E' terrificante! Lo diremo con più precisione più in là. Dicevo che quando si è presentata a WeBuild l'altro giorno al cospetto delle due squadre, è successa una cosa un po' particolare. Lo spiega bene un consigliere comunale, non cito il partito perché qui politica non se ne fa, comunque in copertina c'è Alessandro De Chirico, che ha interpretato il proprio ruolo di amministratore pubblico e dice, lo spiega bene sul Libero, ha presentato all'amministrazione, lui, una richiesta di accesso agli atti relativamente alla documentazione che sia stata presentata, che era stata, che è stata presentata da WeBuild per la ristrutturazione e il restyling dello stadio Meazza. La risposta ha fatto cadere, ed è clamorosa veramente, io non lo uso quasi mai, ma questa volta è davvero pazzesco, io mi chiedo con chi abbiamo a che fare e qual è l'obiettivo. La risposta alla richiesta del consigliere ha fatto cadere il velo attorno alla storia del progetto di fattibilità. E ripeto, nell'incontro svoltosi il 21 giugno, con la partecipazione dei rappresentanti del Milan e dell'altra squadra, la WeBuild ha esposto le linee principali dello studio effettuato, spiega in una nota del Comune il Direttore Generale, per la successiva ed eventuale valutazione da parte delle predette società, WeBuild, lo scorso mese di febbraio, ha spontaneamente proposto l'avvio di uno studio di fattibilità per la riqualificazione dello stadio Meazza, rendendosi disponibile autonomamente ed elaborarlo con oneri a proprio carico, senza dunque alcun incarico o qualsivoglia impegno da parte del Comune di Milano. E alla fine, ancora, nessun documento, nessun progetto è stato presentato. Cioè, praticamente, è successo che il Milan e l'altra squadra di Milano sono andati a questo appuntamento per conoscere i dettagli e decidere se fare per il Milan un investimento di un miliardo e tre a San Donato, oppure meno, e quando sono andati gli hanno presentato un progetto, ma senza progetto. Cioè, gliel'hanno presentato così, a chiacchiere. E il consigliere dunque si chiede, ma è dunque questa una barzelletta? Che ha commentato, appunto, ironicamente il consigliere. Ho chiesto ai presidenti delle commissioni competenti, sport, olimpiadi, verde, con l'aggiunta di quella del demanio, di riunirci. In queste ore stiamo ultimando la raccolta delle firme dei consiglieri di opposizione e dare battaglia sul caso San Siro. Vogliamo vedere il progetto. Chiuso. La domanda dunque è, ma che cosa hanno visto i dirigenti del Milan e quelli dell'altra squadra di Milano? E quando sono stati chiamati? Ma questa è una presa in giro. Cioè, noi del Milan dobbiamo decidere se interrompere un progetto che ha una futuribilità incredibile di un miliardo e trecento milioni a San Donato era stato promesso un progetto studio di fattibilità della WeBuild, mentre quando sono andati all'appuntamento non c'era nessun progetto. Quindi siamo talmente tanto distanti che io mi domando e dico qual è l'obiettivo e se qui si sta parlando di dilettanti. Cioè, non è un modo di agire nei confronti di multinazionali che debbono fare degli investimenti e soprattutto nei confronti di noi tifosi che ci accaniamo, ci accaloriamo contro e a favore di un progetto piuttosto che di un altro, in tutto questo ci sono un grande titolo. Cioè, si sono presentate persone dicendo sì, c'è possibilità di farlo mentre voi giocherete e faremo così, faremo cosà, butteremo giù questo, butteremo giù quello, ma non c'è nessuno studio di fattibilità. Io rimango basito dall'atteggiamento sinceramente dell'amministrazione e in generale rimango basito da come la comunicazione che avviene così, con il lumicino, perché queste cose nessuno te le dice, non è che il Milan è rimasto sconvolto uscendo e dice ma non ci hanno presentato niente, non c'è nessun tipo di polemica, di opposizione e per fortuna che qualcuno ha avuto, come dire, l'idea di andare a chiedere il progetto per vedere e quando sono andati a bussaretto, no ma ancora non è stato presentato nessun progetto, abbiamo un po' così chiacchierato. Ragazzi, va bene, abbiamo visto anche questa, abbiamo ricordato anche questa. Va bene, a proposito di ricordarsi, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al nuovo canale Milan Futuro punto Soccer, quindi potete digitare Milan Futuro ed è il primo, l'unico canale interamente dedicato al Milan del 23, non perdete questa occasione, è gratuita e così avremo, come dire, una stagione intera con due squadre da seguire. Ciao ragazzi!